Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà la morning routine di coppia in versione estiva. Buon giorno. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. 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 Quel giorno era proprio una bella giornata e faceva anche parecchio caldo. E niente, questo video è finito, spero che vi sia piaciuto, ricordatevi di iscrivervi e lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! Grazie!